Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6 che apriamo con la cronaca. C'è necessità di affrontare i reati con delle misure repressive ma soprattutto c'è bisogno di riabilitare i minori e reintrodurli nella società. Così il sostituto procuratore della Repubblica dell'Aquila, David Mancini, alla conferenza stampa che si è tenuta questa mattina nella sede provinciale dei Carabinieri all'Aquila. 13 misure cautelari e oltre 30 indagati per atti persecutori, violenze, estorsioni, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti e rissa sono i provvedimenti giudiziari in corso per altrettanti minori. Diversi episodi registrati in poco meno di un anno ad opera di gruppi e singoli nel centro storico e luoghi di ritrovo dei giovani nel capoluogo hanno portato alla partenza delle indagini. La nazionalità degli indagati è varia, paesi balcanici, nordafricani e italiani. Si tratta sia di ragazzi residenti nelle comunità di accoglienza, a volte non accompagnati, ma anche di residenti nelle famiglie di appartenenza. Andiamo avanti, il Tribunale del Lavoro di Teramo ha sancito la legittimità dell'operato dell'amministrazione comunale sulle progressioni del personale. In particolare l'assessore al ramo Andrea Core era stato accusato di condotta antisindacale per aver stabilito una quota di dipendenti da beneficiare e non l'intero personale. La sentenza invece dà pienamente ragione al Comune di Teramo. Tania Bonici Castelli. All'indomani della sentenza del Tribunale del Lavoro di Teramo, che dà ragione all'amministrazione comunale nell'aver rispettato la normativa sulle progressioni verticali e orizzontali del personale, l'assessore al ramo Andrea Core tira un respiro di sollievo. Negli ultimi mesi l'accusa di condotta antisindacale aveva messo in crisi il rapporto tra gli amministratori e i sindacati stessi e in parte con i dipendenti. Oggi il Tribunale fa chiarezza e definisce legittima la quota di progressioni stabilita dal Comune di Teramo, 50 dipendenti, che non era obbligato ad estendere i benefici a tutto il personale. L'amministrazione è sempre stata convinta di aver operato nel pieno della legittimità a tutela dei lavoratori nel rispetto della normativa. Questi sono in qualche modo i filoni che abbiamo seguito nella nostra azione amministrativa. Dispiace che sia arrivati a un punto in cui un Tribunale, quindi un organo terzo, abbia dovuto sentenziare su questo argomento, ma del resto noi siamo sempre stati convinti e sereni sull'operato dell'amministrazione. Lo abbiamo fatto, questo come tante altre azioni. Penso alle progressioni verticali, appunto alle progressioni orizzontali 2018, 2019 e 2021, le procedure concorsuali nel pieno rispetto del personale, nel pieno rispetto dell'ente, dell'interesse pubblico, volendo efficientare la macchina amministrativa per raggiungere quelli che sono gli obiettivi che in questi giorni stiamo portando a compimento. Oggi sì, è un giorno di distensione, di serenità, nel quale l'amministrazione accoglie positivamente una sentenza che finalmente restituisce la verità, prima di tutto ai cittadini terramani, ai lavoratori e a quanti avevano seguito una battaglia che purtroppo, più che su una questione tecnica, era stata spostata su una questione politica, da chi invece negli anni non aveva fatto nulla per tutelare e difendere i lavoratori e penso a chi nelle precedenti giunte non si era mai speso per andare a difendere e a tutelare gli interessi dei lavoratori dell'ente. Si parla di 15 anni di immobilismo? 15 anni nei quali non erano state previste procedure concorsuali, nei quali non erano stati previsti degli scatti, delle progressioni per il personale. Noi abbiamo già portato a compimento un concorso per progressioni verticali, finalmente con questa sentenza arriva a compimento anche il percorso per la prima di tre progressioni orizzontali che abbiamo previsto in quattro anni, evidentemente sono risultati significativi che siamo certi verranno accolti più che positivamente dai lavoratori e quindi di riflesso con il loro operato dai cittadini che vedranno il risultato di una macchina finalmente efficiente che risponde alle loro esigenze. Due albanesi di 26 e 27 anni sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Casanincontrada in provincia di Chieti per detenzione e coltivazione di stupefacenti e per furto aggravato di energia elettrica. I due sono stati trovati in una zona al confine tra i territori di Bucchianico e Casanincontrada dove dentro un capannone apparentemente abbandonato erano state realizzate due serre adibite alla coltivazione di piante di marihuana mentre una ulteriore serra era in fase di allestimento. Complessivamente sono state rinvenute 91 piante di un'altezza compresa fra 50 e 60 centimetri e altre 100 piante più piccole che sono state sequestrate unitamente al materiale utilizzato per la coltivazione ovvero lampade, ventilatori e trasformatori. I carabinieri hanno anche trovato 120 grammi di marihuana già pronta e i due sono stati rinchiusi nel carcere di Lanciano in attesa dell'interrogatorio di convalida. Sottoscritto stamani l'atto d'impegno del contratto del fiume Pescara tra Regione Abruzzo, Comune di Pescara che è capofila, provincia e le amministrazioni locali interessate. Il servizio di Paolo Renzetti Finalmente arriva questo contratto di fiume per il Pescara tanti comuni interessati a questo progetto 100 milioni di euro un progetto che ha una grande valenza ambientale ma non solo. Assolutamente sì, viene sottoscritto oggi il contratto di fiume strumento di programmazione importante che se ne è tanto parlato negli anni passati ma non ha avuto mai corpo. Noi abbiamo dato un'anima amministrativa, strutturata, abbiamo finanziato le progettualità e oggi è arrivata questa progettualità, così come stanno arrivando altre realtà ma questa è una progettualità importante perché parte dalle criticità, dall'analisi che fa bisogno di tutto quanto il territorio di tutta l'asta fluviale del Pescara che poi da queste criticità emerge la soluzione dei problemi e emerge la seconda fase delle opportunità della crescita e della valorizzazione del fiume. il fiume del Pescara rappresenta non solo per la valenza ambientale ma anche per la valenza storica, culturale un momento importante, una realtà importante del nostro Abruzzo e di questa realtà territoriale noi come Regione stiamo sostenendo proprio con i contratti di fiume quello che saranno iniziative che tendono a mettere insieme trasversalmente tutti i comuni e poi a dare l'opportunità con finanziamenti che ci saranno da qui al prossimo futuro della nuova programmazione comunitaria del PNRR e di tutto ciò che potrà essere finalmente in una visione d'insieme, in una possibilità di crescita e di sviluppo. Progetto lungamente atteso è il caso di dire? Ma non so se era lungamente atteso, probabilmente sì ecco noi come Regione abbiamo dato l'astura anche finanziando diciamo la progettualità del contratto di fiume questa è una novità vera e soprattutto ecco costruendoci quello che è un percorso amministrativo oggi questa realtà territoriale ha una progettualità d'insieme vera e poi col tempo saremo in grado tutti insieme di cogliere finanziamenti che saranno necessari per la realizzazione dei vari progetti. Nel corso della mattinata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Roseto degli Abruzzi è intervenuta al chilometro 349 più 300 dell'autostrada 14 sulla carreggiata in direzione nord a seguito dell'incendio di un auto articolato adibito al trasporto di cavalli di un circo le fiamme si sono sviluppate nel vano motore della motrice ed hanno avvolto il mezzo pesante il primo intervento di spegnimento è stato effettuato dalla squadra antincendio dell'azienda GSA che gestisce il servizio per conto di autostrade per l'Italia contenendo le fiamme che sono state poi spente dai vigili del fuoco intervenuti sul posto i vigili hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo e hanno bonificato la zona dell'incidente una modifica al tracciato ferroviario che va da Ortona a Pescara lo ha chiesto l'ex sindaco di Francavilla al Mare Roberto Angelucci dopo che RFI ha presentato il progetto nazionale che prevede l'arretramento di alcune tratte il servizio di Stefano Recanati un'occasione sicuramente da non perdere stiamo parlando del piano nazionale presentato da RFI e che prevede nel territorio abruzzese due bypass una tortona dai ripari all'Ido Riccio l'altro al Roseto costo complessivo 1 miliardo e 800 milioni conti alla mano, dice Roberto Angelucci promotore del tavolo di lavoro permanente aperto oggi a Francavilla al Mare con 50 milioni di euro in più è possibile realizzare l'intera delocalizzazione del tracciato e per la maggior parte interrato per il solo tratto che riguarda l'Ido Riccio e che arriva a San Silvestro partiamo con questa idea e vogliamo chiedere un incontro sia alle ferrovie che all'ANAS con i soggetti, i sindaci, i presidenti delle province noi stiamo dietro, facciamo la base partendo dalla base questa proposta visto che tutti ci eravamo interessati quindi parte un momento di unione così come facciamo a suo tempo con la variante ci siamo riusciti in gran parte anche oggi parte questa iniziativa un'occasione, quella dell'arretramento persa già negli anni 50 all'epoca la politica ritene strategica la scelta di far passare i treni nel cuore della città ora però il progetto di velocizzazione per abbattere i tempi di percorrenza sta creando problemi di inquinamento acustico e vibrazioni nei fabbricati è una lotta difficile, è una lotta dura la regione se ne deve fare carico il 4 gennaio scorso la regione il presidente Marsilio ha voluto riunire tutti i comuni per sentire raccogliere tutte le stanze e noi abbiamo chiaramente spiegato che la nostra intenzione è quella dell'arretramento o dell'interramento bisogna studiare un metodo della linea e nel frattempo di introdurre opere di mitigazione dei rumori e dell'inquinamento acustico e delle vibrazioni per la linea attualmente esistente a questo tavolo oltre al mondo della politica è seduto anche una rappresentanza dei cittadini questi ultimi hanno avviato una raccolta firme con l'intento di strappare alla politica la promessa di un'accelerazione riguardo l'installazione delle barriere antirumore il gruppo si è informato sui progetti in corso e sappiamo che Francavilla è stata divisa in lotti e c'è già un primo lotto che dovrebbe partire nel più breve tempo possibile di installazione delle barriere a nord del fiume Alento perché era il tratto di tracciato ferroviario maggiormente popolato successivamente l'installazione di tutti i lotti fino a coprire tutta la cittadina quindi sì, sicuramente prima le barriere e poi la delocalizzazione che risolverebbe il problema ma ci vorrebbe sicuramente più tempo L'assessore allo sport di Chieti Manuel Pantalone ha risposto alle opposizioni in merito al restyling del campo Sant'Anna che però gestito dal Chieti Calcio l'amministrazione attende la documentazione da parte della società Nero Verde vediamo Assessore Pantalone Qual è la situazione odierna del campo di Sant'Anna? Diciamo che abbiamo effettuato di recente un'ulteriore riunione tecnica con la società del Chieti che gestisce l'impianto di Sant'Anna lo stato dell'arte è che pur essendo scaduti i termini per l'espletamento dei lavori da parte del gestore c'è un finanziamento che il gestore ha intercettato nell'ambito del bando sport e periferie del Dipartimento dello Sport attraverso la partecipata del CONI Sport e Salute S.P.A. ed è un finanziamento di oltre 500.000 euro che noi stiamo veramente cercando di fare in modo che il Chieti possa riuscire ad intercettare definitivamente con una stipula di una convenzione che il Chieti dovrà eseguire entro il 31-12 di questo anno è ovvio che noi stiamo attendendo dei documenti necessari ai fini dell'approvazione dell'esecutivo e questo è quanto di nostra pertinenza poi dobbiamo augurarci nella piena collaborazione della società perché veramente l'obiettivo è quello di vedere quell'impianto riqualificato noi stiamo facendo in modo che questi documenti arrivino nel minor tempo possibile ma è ovvio che possiamo effettuare questo tipo di attività ma non abbiamo una diretta pertinenza nell'ambito di questi aspetti quindi dobbiamo soltanto augurarci che questi documenti ci pervengano il prima possibile in modo da procedere con gli uffici all'approvazione del progetto esecutivo e poi il Chieti dovrà firmare dapprima la convenzione con il Dipartimento per lo Sport e dopodiché procedere agli iter successivi di affidamento dei lavori Qualora non dovessero arrivare per tempo con i documenti richiesti quali sono i rischi? Io questo lo faccio anche per rispondere a qualche oppositore che forse dimentica che avrebbe anche egli l'obbligo di dire la verità e non di fare speculazione e populismo come qualche oppositore ha fatto su questa vicenda nelle ultime settimane che il rischio è quello che la scuola di calcio ma soprattutto la città perché la scuola di calcio ha in gestione l'impianto cittadino possa perdere questa opportunità cioè possa perdere questi oltre 500 mila euro ma è ovvio che nel momento in cui ciò dovesse accadere ma siamo veramente convinti che non accada ci attiveremo un attimo dopo per avviare tutte le procedure necessarie affinché quell'impianto possa avere il futuro che merita è una nostra priorità però non vanno confuse le responsabilità capisco che qualcuno dei banchi dell'opposizione lo faccia in maniera ovviamente pretestuosa non dovrebbe essere così noi andiamo avanti perché stiamo facendo un gran lavoro sui 18 impianti sportivi della città che sono pienamente fruibili a disposizione dell'associazionismo sportivo cittadino e di chiunque li voglia utilizzare è stato inaugurato sabato scorso a Silvio un nuovo campo di addestramento cani gestito dalla Croce Rossa al Comitato di Roseto degli Abruzzi vediamo il servizio inizierà a breve l'attività del campo di addestramento per cani da ricerca del Comitato di Roseto della Croce Rossa a Silvi in via Polacchi in un'area che è stata appositamente destinata e che è stata inaugurata sabato scorso alla presenza di volontari e istituzioni il centro sarà utile a preparare all'azione cani che saranno impiegati in casi di emergenza e calamità naturali un servizio di grande utilità non solo per la Croce Rossa che la promuove ma anche per le forze di polizia che possono dotarsi di unità cinofile di appidamento pronte all'intervento in caso di urgenza la soddisfazione dei coordinatori dell'iniziativa e dell'amministrazione comunale di Silvi siamo riusciti veramente ad aprire questo gioiello che sarà veramente un ferrocchiello anche per tutta la regione e anche a livello nazionale che sarà appunto oltre a Croce Rossa potranno anche aderire anche le forze dell'ordine per quanto riguarda tutte le loro unità cinofile per quanto riguarda polizia, carabinieri e vigili del fuoco e protezione civile dove appunto abbiamo già un portocollo in chiesa insieme ai vigili del fuoco tutto questo va ad offrire ancora di più tutto quello che vuol dire è la parte volontariato noi siamo Croce Rossa in primi siamo volontari diciamo che questa attività la facciamo perché veramente ci crediamo e per di più questa attività la facciamo anche perché diciamo siamo coinvolti sull'area emergenziale per quanto riguarda catastrofi e disastri noi ci occupiamo di recupero di spessi in superficie poi in secondo luogo c'è una seconda squadra un secondo step che si occupa appunto del recupero persone sepolte e la macerie partiremo subito al più presto già a giorni avremo un incontro con il vigili del fuoco e già inizieremo a lavorare a tempi brevi l'importanza di questa struttura sul territorio di Silvi soprattutto per tutte le forze di polizia le associazioni di volontariato cinofile che si adopereranno per il canale da soccorso e da ricerca l'amministrazione comunale ha dato la disponibilità di questo spazio siamo felici che la Crocella Rossa Italiana abbia creato questa struttura e che possa diciamo dare il proprio contributo soprattutto nella fase emergenziale perché soprattutto attraverso le associazioni di volontariato si fa sistema e si aiuta la comunità saranno a Batteggio e Caramanico Terme nel Pescarese ad ospitare il 9, 10 e 11 settembre il Festival dei Borghi Più Belli d'Italia oggi la presentazione dell'evento vediamo saranno a Batteggio e Caramanico in provincia di Pescara ad ospitare la tre giorni del 14esimo Festival Nazionale dei Borghi Più Belli d'Italia l'appuntamento annuale che valorizza ai Borghi Italiani quest'anno sarà ospitato dalla nostra regione venerdì 9 settembre ad Abateggio e sabato 10 e domenica 11 settembre a Caramanico Terme questa mattina a Pescara presso Casa D'Annunzio è stato illustrato il programma della tre giorni che coinvolgerà 111 comuni italiani che esporranno prodotti tipici in appositi stand un evento particolare proprio io lo chiamo sui generis perché non abbiamo mai avuto un festival in questo format Antonio Di Marco è stato bravissimo a iniziare questo avvicinamento come ha sempre chiamato coinvolgendo tutti i borghi dell'Abruzzo e del Morise fino ad arrivare a questi giorni che sono il clou infatti abbiamo un programma molto nutrito sia di convegni che di animazione e questo lo dobbiamo proprio al fatto che tutti hanno partecipato e che tutti parteciperanno e porteranno delle cose particolari prodotti prodotti particolari prodotti unici che ci sono qui in Abruzzo quindi diciamo che ci sono tantissimi borghi che vengono dal nord e dal sud dalla Valle d'Aosta alla Sicilia e quindi abbiamo quasi tutte le regioni anzi tutte le regioni sono presenti l'Abruzzo è il luogo centrale del Festival Nazionale dove arriveranno tantissime delegazioni di tutta Italia e noi contiamo più di 150 diciamo delegazioni ma con noi sarà il Ministro d'Incada il venerdì alle 3 e mezza fino al sabato tarda mattinata così come avremo i nostri presidenti di regione Abruzzo Molise ma insomma abbiamo il nostro presidente nazionale Fiorello Primi il direttore nazionale l'esecutivo nazionale i coordinatori regionali tutta l'Italia è presente in queste tre giorni siamo riusciti a fare quello che volevamo fare cioè lavorare affinché l'Abruzzo fosse riconosciuto a livello nazionale come luogo capace di attrarre eventi di qualità avremo grandi ospiti da Osvaldo Bevilacqua che sarà il nostro diciamo onnipresente presentatore coordinatore dei dibattiti così come la madrina Benedetta Rinaldi così come Daniele Mocio e il vicepresidente dell'Eni e poi grazie a Francescato insomma abbiamo cercato di avere quella qualità che serve ai territori come quelli certificati più belli per poter ambire a fare cose in grande grazie e ora lo sport Serie C Vladislav Blanuta lascia il Pescara il giovane attaccante moldavo è stato ceduto in prestito alla squadra romena del Craiova intanto il match winner contro l'Avellino Facundo Lescano si gode il pubblico di domenica sera in vista della gara di Latina di domenica prossima mette nel mirino la squadra puntina che a sorpresa ha espugnato Foggia partita del Francioni che si giocherà appunto domenica alle 17.30 che sarà diretta da Saimir Kumara della sezione di Verona ascoltiamo Lescano è stato un bellissimo colpo d'occhio e soprattutto per noi giocatori è un big match così giocare subito prima in casa con tantissima gente ti dà una carica in più anche credo nel primo tempo il portiere mi ha fatto una grandissima parata a me e oltre a quello abbiamo creato poco il secondo tempo dopo il gol e loro come è normale che sia hanno cercato di portare a casa punti si sono aperti un po' anche con l'ingresso di Colai ha avuto sui piedi tante occasioni sì credo che per un attaccante fare quella è importante io sono un ragazzo un giocatore che aiuta tantissimo i miei compagni anche in fase di non possesso e credo che poi è come un cerchio tu dai una mano e da un'altra parte ti torna quindi credo che uno facendo tanto lavoro sporco tante gomitate e poi diciamo ecco io non sono magari un fulmine di guerra quindi il mio habitat è un po' dentro l'aria se uno si fa trovare bene ho dei giocatori che mi consentono anche di fare tanti gol e spero di continuare come sono partito sì 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 anche quando sono venuto a giocare comunque si sentivano i tifosi diciamo che io vengo da un altro tipo di squadra di società l'anno scorso quindi per me qui è come fare la Serie A io sono cresciuto in Argentina e so cosa ti può dare ecco il calore dei tifosi per me è stata veramente una grandissima emozione anche dopo il gol sentire ecco il mio nome gridato da tanta gente forse è la prima volta che mi capita quindi me la ricorderò per sempre questa serata io ho fatto tanti anni questo girone quindi ogni partita è difficilissima il girone sud secondo me il C è il più difficile a livello ambientale proprio infatti in Latina io avevo letto che ha rafforzato la squadra e oggi mi ha sorpreso veramente che abbiano vinto 3 a 1 a Foggia perché c'è un bel ambientino anche a Foggia quindi veramente sono sorpreso ma me lo aspettavo anche da una parte perché a livello di squadra loro sono forti e niente forse è meglio per noi perché li troviamo belli carichi anche loro e capiamo che non è una partita semplice anche perché le squadre che affrontano il Pescara ci mettono sempre qualcosina in più Serie D il presidente del Pineto Silvio Brocco domenica scorsa ha ricevuto dai tifosi un riconoscimento per il suo lungo impegno nel mondo del calcio ed ha commentato la vittoria della sua squadra all'esordio nel campionato contro il Termoli per 4 a 3 Roberta Di Sante è stato un bel gesto sono delle cose che mi commuovono perché comunque siamo tutti amici da tanti anni che vediamo il Pineto che assistiamo che portiamo avanti questa storia calcistica è un bel omaggio alla mia persona l'avrei fatto anch'io a un presidente che fosse stato come me che sarebbe stato nella stessa misura glielo avrei regalato anch'io una targa veniamo alla partita insomma che cosa ti è piaciuto e che cosa non ti è piaciuto di questo esordio ma la determinazione di fare gol con degli elementi molto importanti come Legretti Giambè è stato veramente esecuzione di gol fantastici quello che non mi è piaciuto è sicuramente è successo qualcosa nella squadra nel centro campo tant'è che gli avversari tanto onore al Termoli sicuramente per la bella partita che hanno disputato si sono riversati troppo fortemente verso la nostra area e questo insomma ci ha tenuto in tensione fino alla fine speriamo che tutta questa cosa non succede più con le prossime partite il primo cittadino di Teramo Gianquido D'Alberto presente al raduno della nuova squadra bianco-rossa che giocherà in promozione parla del nuovo corso societario del possibile ricorso da parte della vecchia compagine e della convenzione che riguarda il Bonolis vediamo Sindaco una ripartenza dalla promozione ma pur sempre una ripartenza sì una ripartenza tutt'altro che scontata ormai è storia nota abbiamo rappresentato ed è chiaro insomma quello che quello che è successo una ripartenza che deve essere accompagnata seppur con grande difficoltà da entusiasmo e soprattutto dalla vicinanza di tutta la comunità a questi ragazzi e soprattutto a chi si è messo in gioco per far nascere questa nuova società città di Teramo che riparte dalla promozione con l'obiettivo assolutamente di una programmazione a medio-lungo termine che ci consenta di tornare assolutamente nella dimensione calcistica che la nostra città merita c'è però rispetto all'esito del Consiglio di Stato un cambio d'idea della vecchia società che insomma pare voglia andare a ricorrere al TAR per chiedere la serie D in soprannumero come ha fatto già il Campobasso lei come valuta questo percorso questa decisione sono scelte valutazioni che spettano alla vecchia società lo studio legale che avrà valutato la sussistenza dei presupposti per poter procedere ad un nuovo ulteriore ricorso quindi in questo momento non aggiungo altro c'è la concentrazione adesso su quelli che sono gli atti compiuti e completi che parlano di una città di Teramo alla quale è stato consentito ripartire dalla promozione e dare la continuità al calcio teramano dopo una serie di situazioni ripeto una ripartenza tutt'altro che scontata ha paura di vedere due Teramo? in futuro due squadre di Teramo? no in questo momento il sentimento che mi occupa non è certamente la paura quindi tutto è molto chiaro è molto delineato ci sono dei percorsi quindi ciascuno poi sarà responsabile delle scelte che riterrà di fare quindi non possiamo fare altro che attendere l'evoluzione della situazione l'ultima se posso chiedere dove giocherà la SS di Città di Teramo visto che ci sono difficoltà sia per il campo di allenamento sia per quanto riguarda le partite guardi è giusto che questa domanda la ponga alla società insomma che poi come ho detto anche qualche giorno fa il lavoro del comune dell'amministrazione arriva a un punto in cui si chiude si interrompe ci sarà sempre la vicinanza il sostegno ma poi sono anche valutazioni che spettano alla società noi staremo sempre ovviamente vicini saremo vigili al momento sembra che la richiesta che sia stata fatta al comitato della federazione è chiaro io ho sempre detto e confermo che lo stadio e lo spazio dove deve giocare la sede la squadra di riferimento della città di Teramo è il bonolis ma non lo dico io lo dice la convenzione c'è un articolo nella convenzione che chiaramente dice che il concessionario si obbliga a consentire alla società di riferimento della città di Teramo lo svolgimento dell'intera stagione sportiva o parte di essa se non avranno bisogno di tutte le giornate a disposizione quindi è un tema è una partita che sicuramente si svolgerà spero con la massima serenità e con la disponibilità di tutti nelle prossime settimane intanto si parte con una garanzia ovviamente sia per la federazione che per il comitato e poi c'è questo discorso del ricorso di cui si parlava prima che non so quanto possa influire poi nelle valutazioni di altri a breve tutti i servizi che avete visto saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma youtube oppure sul sito www.tv6.it prossimi appuntamenti con la nostra informazione ITG delle ore 19 e delle ore 23 grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi di tv6 e buon proseguimento per l'attenzione